Altre sei sanzioni nell'ultimo mese portano il totale a 27 dall'inizio dell'anno. Continua l'impegno dell'amministrazione comunale di Bareggio per combattere l'abbandono dei rifiuti e della non corretta differenziazione. Da gennaio sono state elevate multe per un totale di 8.330 euro, 13 le sanzioni per abbandono dei rifiuti, 10 per raccolta differenziata non conforme, 3 per vegetazione sporgente e 1 per uso improprio dei cestini. Sono importanti dunque i risultati conseguiti dal nuovo nucleo anti-abbandono della pulizia locale, istituito con l'amministrazione comunale a maggio scorso. Un grande ringraziamento, dice il vice sindaco, nonché assessore alla sicurezza Lorenzo Paglietta, alla nostra pulizia locale, che in sinergia con la società che si occupa della raccolta dei rifiuti con il nostro ufficio Ecologia, sta cogliendo in fallo diversi furbetti. Grazie a loro e grazie alle nuove tecnologie sulle quali stiamo investendo in maniera importante, stiamo riuscendo a rendere difficile la vita agli incivili. È fondamentale vincere innanzitutto per avere un paese pulito, ordinato e vivibile, e poi per ridurre i costi di smaltimento dei rifiuti abbandonati, che sono a carico del Comune.